Sono così fortunata ad avere una sorella! O forse no? Finalmente facciamo un picnic! Sì, mi piace molto qui! E i ragazzi sono carini! Facciamo un gioco! Buona idea! Ops! Tocca a me! Chiudi gli occhi! Ouch! Questa non è uva! È una bistecca! Non è giusto! Ho così tanto da raccontarti! C'è stato questo incidente ridicolo al lavoro! Ascolta, il bollitore si è rotto e tutti sono dovuti correre nel bar dall'altra parte della strada, mentre io ho portato un termos! Ti immagini? Sì, ben fatto, sorellina! È proprio quello che sto dicendo! Elementare! E poi ho fatto tutti i miei rapporti in dieci minuti! No, mi ci sono voluti solo cinque minuti! E poi? E c'era un'altra storia divertente! Durerà per sempre! Ho un'idea! Scotta! Questo è crudele! Ma divertente! Prendila! Oh! Non volevo! Prova a colpire più forte! Ma stai scherzando? Adesso tocca a te correre dolcezza! Au! Che male! Oh, Carol! Mi dispiace così tanto! Brutta palla cattiva! Sto bene! Il nuovo lavoro è fantastico! Sono felice per te! Che mi dici di tua sorella? Vicky? È qui! Guarda! Ragazzi! Chi è quello? Ciao, papà! Ti vogliamo bene! Ci manchi! Devi essere stanca di vivere! Ma tanto è papà! E questa è la mia vita personale! Capito? L'acqua è perfetta! La la la! Hai una sorella o un fratello? Condividi le tue storie divertenti nei commenti sotto al video! Ehi, dov'è l'acqua? Vicky? Sai cos'è successo alla nostra acqua? Vicky? Che strano! Va tutto bene! Sono solo delle procedure speciali per l'acqua! Ah, sei stata tu! Beh, aspetta, sorella! Adesso te la faccio vedere io! Lascia che il bagnoschiuma si assorba bene! Corri, Vicky! Corri! È di nuovo in ritardo! Ed ecco il taxi! Solo un momento! Mia sorella sta per arrivare! Dov'è? Quanto tempo manca? Il tempo è denaro! Cinque minuti! Ciao! C'è un taxi per noi! Oh, aspetta un secondo! Andiamo! Ehi! E io? Fermi! Che mem divertente! Vicky, perché questa stanza è così disordinata? Quando metterai le tue cose nell'armadio? Hai problemi? L'appartamento dovrebbe essere in ordine! Posso fare quello che voglio con le mie cose! Che ragazza cattiva! Ora ti insegnerò come mantenere pulito il tuo spazio! Così va meglio! Carol, dove sono tutti i miei vestiti? Li ho messi dove devono stare! Dove hai messo la mia roba? Dov'è? Guarda fuori dalla finestra e vedrai! Dici sul serio? Assolutamente sì! Ci sono novità? Wow! Vicky, guarda il libro che ho trovato! Leggiamolo insieme! Portalo via e lasciami in pace! Come vuoi! Questo è il mio divano, sorellina! Ciao, ciao! Bene, vediamo se Carol ha qualcosa di interessante qui! Sono una vera signora! Non va bene! Oh, che bel colore! Ciao, ciao! Sono perfetti! Ha un vestito nuovo? È così bello! Sta meglio a me! Oh no! Questo no! Cosa posso fare ora? Oh, non è stata una buona idea! Non è niente! Non se ne accorgerà nemmeno! Cosa ci fai qui? Me ne vado! Esci! Questo è il mio guardaroba! Cosa posso mettere all'appuntamento? Bene, il mio nuovo vestito! Cosa gli è successo? Vicky! Sei morta! Ispira! Espira! La vita è meravigliosa! Uno, due, tre! Senza sport non mi sento libera! Calmati, Carol! Continua a meditare! Bene, ho abbastanza! Così va meglio! Ehi, non è giusto! Ispira! Espira! Oh, sono così stanca! Ma ho comprato tante cose! Nuovi profumi! E anche una borsettina! Questo shopping è stato un successo! Hai comprato qualcosa per me? Per te? Ti ho comprato questo top elegante! È solo un sacchetto di plastica! Penso che ti stia bene! Ed è proprio della tua taglia! Fantastico! I miei capelli sono quasi pronti! Il tocco finale! Aggiungerò un po' di volume! Mmm, Carol si sta preparando per un appuntamento! Dovrei aiutarla! Ecco qua, sorella! Adesso è tutto perfetto! Ah, perché? Continua a dormire, Carol! Sarà divertente! Ancora un po' Svegliati! Dove sono? Che cosa? Perché c'è tutto questo pane? Vicky, me la pagherai! Bene, non c'è più polvere! Vicky, ti dispiacerebbe aiutarmi con le pulizie? Non vedi che sono occupata? Solo un po'! Non voglio! Dov'è la nostra ruota delle faccende domestiche? Oh, guarda! Che cos'è? Niente! Visto? Devo riposare! È il tuo turno! Va bene! E io devo dare da mangiare al gatto! Ah! Ebbene! Dovrei continuare a compiere il mio dovere! Ti è piaciuto il nostro video? Allora premi like! Iscriviti al nostro canale! E non dimenticare di fare clic sulla campanella! iscriviti al nostro canale! Grazie.